Covcommercio Milano ha aderito a Milano Green Week, la prima manifestazione promossa dall'amministrazione comunale a sostegno dell'ambiente, organizzando Greenability, un evento ideato per raccontare le green practice del terziario, a dimostrazione di come investire nella sostenibilità spinge le imprese al successo. Oggi è una bella iniziativa perché raccontano una serie di storie di imprese nate dalla sostenibilità che stanno creando posti di lavoro e ricchezze per la nostra città e questo dimostra che sono settori dove ha senso investire e che spesso hanno dei trend di crescita, essendo anche settori nuovi, molto più rapidi di alcuni modelli di economia tradizionale. Pensiamo a tutto il sistema di sharing, i primi operatori di cash sharing a Milano sono nati solamente 5 anni fa, sembra ormai una vita che ci sono, quasi non ne possiamo fare a meno, ed è un settore che in 5 anni ha creato migliaia di posti di lavoro sul nostro territorio. Io credo che non solo vada pensato per la nascita di nuove aziende che sono assolutamente le benvenute, ma anche per modo per ripensarsi a tante altre aziende che per rimanere sul mercato o guadagnare nuove fette di mercato hanno bisogno di un upgrade in questo senso. Grazie per la visione!